Si è svolta nei giorni scorsi la seduta di laurea per 5 studenti del corso di laurea in Biologia e Biologia della Nutrizione attivata a San Benedetto del Tronto dall'Università degli Studi di Camerino in collaborazione con il Consorzio Universitario Piceno. In particolare Biologia della Nutrizione rappresenta in questa realtà un aspetto molto importante in quanto viene seguito da un numero considerevole di studenti che hanno l'opportunità di effettuare lo stage presso strutture sia pubbliche che private presenti nel territorio. È un corso che interessa molto, tant'è vero che quest'anno a Camerino partirà anche un indirizzo della laurea specialistica, un indirizzo in Biologia e Biologia della Nutrizione che permetterà ai studenti che hanno svolto la triennale di proseguire gli studi focalizzando il loro interesse sulla Biologia e la Nutrizione.